Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia. Vita dei Campi di Giovanni Verga Ieli, il pastore Ieli, il guardiano di cavalli, aveva tredici anni quando conobbe don Alfonso, il signorino, ma era così piccolo che non arrivava alla pancia della Bianca, la vecchia giumenta che portava il campanaccio della mandra. Lo si vedeva sempre di qua e di là, pei monti e nella pianura, dove pascolavano le sue bestie, ritto ed immobile su qualche greppo, o accoccolato su di un gran sasso. Il suo amico don Alfonso, mentre era in villeggiatura, andava a trovarlo tutti i giorni che Dio mandava a Tebidi, e dividevano fra di loro i buoni bocconi del padroncino, e il pane d'orzo del pastorello, o le frutta rubate al vicino. Da principio Ieli dava dell'eccellenza al signorino, come si usa in Sicilia, ma dopo che si furono accapigliati per bene, la loro amicizia fu stabilita solidamente. Ieli insegnava al suo amico come si fa ad arrampicarsi sino ai nidi delle gazze, sulle cime dei noci più alti del campanile di Licodia, a cogliere un passaro a volo con una sassata, a montare correndo di salto sul dorso nudo delle giumente ancora indomite, Acciuffando per la criniera la prima che passasse a tiro, senza lasciarsi sbigottire dai nitriti di collera dei puledri indomiti, e dai loro salti disperati. Ah, le belle scappate per i campi mietuti, con le criniere al vento! I bei giorni d'aprile, quando il vento accavallava ad onde l'erba verde, e le cavalle nitrivano nei pascoli. I bei merigi d'estate, in cui la campagna, bianchiccia, taceva, sotto il cielo fosco, e i grilli scoppiettavano fra le zolle, come se le stoppie si incendiassero. I bel cielo d'inverno, attraverso i rami nudi del mandorlo, che rabbrividivano al rovaio, e il viottolo che suonava gelato sotto lo zoccolo dei cavalli, e le allodole, che trillavano in alto, al caldo, nell'azzurro. Le belle sere di estate, che salivano ad agio ad agio come la nebbia, il buon odore del fieno, in cui si affondavano i gomiti, e il ronzio malinconico degli insetti nella sera. E quelle due note dello zuffolo di Ieli, sempre le stesse, iu, 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 che facevano pensare alle cose lontane, alla festa di San Giovanni, alla notte di Natale, all'alba della scampagnata, a tutti quei grandi avvenimenti trascorsi, che sembrano mesti, così lontani, e facevano guardare in alto, con gli occhi umidi, quasi tutte le stelle che andavano accendendosi in cielo vi piovessero in cuore, e l'allargassero. Ieli, lui, non pativa di queste malinconie. Se ne stava accoccolato sul ciglione, con le gote enfiate, intentissimo a suonare, iu, 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 poi radunava il branco a furia di gridi e di sessate, e lo spingeva nella stalla, di là del poggio alla croce. Ansando saliva la costa, di là dal vallone, e gridava qualche volta al suo amico Alfonso, — Chiamati il cane! — Oh, eh! — Chiamati il cane! — Oppure, tirami una buona sassata allo zaino, che mi fa il capriccioso, e se ne viene ad agio ad agio, gingillandosi con le macchie nel vallone. — Oppure, domattina portami un ago grosso, di quelli dell'agnostia, — Una lia! Ehi sapeva fare ogni sorta di lavori con l'ago, e ci aveva un batufoletto di cenci nella sacca di tela, per rattoppare al bisogno le brache e le maniche del giubbone. Sapeva anche tessere dei treccioli di crini di cavallo, e si lavava anche da sé con la creta del vallone, il fazzoletto che si metteva al collo, quando aveva freddo. Insomma, purché ci avesse la sua sacca ad armacollo, non aveva bisogno di nessuno al mondo. Fosse stato nei boschi di resegone, o perduto in fondo alla piana di Caltagirone. L'agnalia soleva dire, vedete Ieli, il pastore? È stato sempre solo per i campi, come se l'avessero figliato le sue cavalle, ed è perciò che sa farsi la croce con le due mani. Del rimanente è vero che Ieli non aveva bisogno di nessuno, ma tutti quelli della fattoria avrebbero fatto volentieri qualche cosa per lui, poiché era un ragazzo servizievole, e c'era sempre il caso di buscarci qualche cosa da lui. L'agnalia gli cuoceva il pane per amor del prossimo, ed ei la ricambiava con bei panierini di vimini per le ova, arcolai di canna, ed altre coserelle. «Facciamo come fanno le sue beste», diceva l'agnalia, che si grattano il collo a vicenda. A Tebidi, tutti lo conoscevano da piccolo, che non si vedeva fra le code dei cavalli, quando pascolavano nel piano delle tigliere, ed era cresciuto, si può dire, sotto i loro occhi, sebbene nessuno lo vedesse mai, e ramingasse sempre di qua e di là col suo armento. Era piovuto dal cielo, e la terra l'aveva raccolto, come dice il proverbio, proprio di quelli che non hanno né casa né parenti. La sua mamma stava a servire a vizzini, e non lo vedeva altro che una volta all'anno, quando egli andava coi puleidri alla fiera di San Giovanni, e il giorno in cui era morta, erano venuti a chiamarlo, un sabato sera, che il lunedì Ieli tornò alla mandra, sicché non ci rimise neppure la giornata. Ma il povero ragazzo era ritornato così sconvolto, che alle volte lasciava scappare i puleidri nel seminato. — Oh, ehi, Ieli! gli gridava allora Massaro Grippino dall'aia. — O che vuoi, assaggiare le narbate delle feste, figlio di Cagna? Ieli si metteva a correre dietro ai puleidri sbrancati, e li spingeva mogio mogio verso la collina. Però davanti agli occhi ci aveva sempre la sua mamma, col capo avvolto nel fazzoletto bianco, che non parlava più. Suo padre faceva il vaccaro a Ragoleti, di là di Licodia, dove la malaria si poteva mietere, dicevano i contadini dei dintorni. Ma nei terreni di malaria i pascoli sono grassi, e le vacche non prendono le febbri. Ieli quindi se ne stava nei campi tutto l'anno, o a Don Ferrante, o nelle chiuse della commenda, o nella valle degli Acitano, e i cacciatori o i viandanti che prendevano le scorciatoie, lo vedevano sempre qua e là, come un cane senza padrone. E non ci pativa, perché era avvezzo a stare coi cavalli, che gli camminavano d'innanzi, passo passo, brucando il trifoglio, e con gli uccelli che girovagavano a stormi, attorno a lui, tutto il tempo che il sole faceva il suo viaggio lento lento, sino a che le ombre si allungavano e poi si diluguavano. Egli aveva il tempo di veder le nuvole accavallarsi a poco a poco, e figurare monti e vallate. Conosceva come spira il vento quando porta il temporale, e di che colore sia il nuvolo quando sta per nevicare. Ogni causa aveva il suo aspetto e il suo significato, e c'era sempre che vedere e che ascoltare in tutte le ore del giorno. Così, verso il tramonto, quando il pastore si metteva a suonare con lo zuffolo di Sambuco, la cavalla mora si accostava masticando il trifoglio svogliatamente, e stava anch'essa a guardarlo, con i suoi grandi occhi pensierosi. Dove soffriva soltanto un po' di malinconia, era nelle lande deserte di Passanitello, in cui non sorge macchia né arbusto, e nei mesi caldi non ci vola un uccello. I cavalli si radunavano in cerchio, con la testa a ciondoloni, per farsi ombra l'un l'altro, e nei lunghi giorni della trebbiatura, quella gran luce silenziosa pioveva sempre uguale ed affosa, per sedici ore. Da Ieli, invece, si lasciava montare, e grattare le orecchie di cui era gelosa, e l'andava affiutando, per ascoltare quello che gli voleva dirle. Lascia stare la vaiata, gli raccomandava Ieli, non è cattiva, ma non ti conosce. Dopo che Scordu, il Bucchierese, si menò via la gioventa calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro Zaino, rimasto orfano, non volle darsi pace, e scorrezzava supe i greppi del monte, con lunghi nitriti lamentevoli e con le froge al vento. Ieli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi i fianchi con la coda. — È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia, osservava il pastore. Adesso bisogna tenerlo d'occhio, perché sarebbe capace di lasciarsi andare giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia, vedi, a poco a poco comincia a dimenticarsene. Ma anch'esso sarà venduto, i cavalli sono fatti per essere venduti, come gli agnelli nascono per andare al macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno. Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, che di rado aveva avuto con chi parlare, e perciò non aveva fretta di scovarle e di stregarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare, che sbucciassero e spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il cibo, e quando la neve copra la terra, se ne muoiono. Poi ci pensò su un pezzetto. Tu sei come gli uccelli, ma quando arriva l'inverno, te ne puoi stare al fuoco, senza far nulla. Don Alfonso, però, rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Ieli allora sgranova gli occhi, e stava tutto orecchi. Se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro, e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel lieve ammiccar di palpebre, che indica l'intensità dell'attenzione, nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli piacevano i versi, che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorio si stesse facendo nel suo interno. Allora accennava di sì, e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere, per far vedere quante cose sapeva fare, Ieli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto un tratto lasciava scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva capacitarsi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o che aveva dette Don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, tal che lui finiva per tirarsi indietro, incredulo, e con un sorriso furbo. Ogni idea nuova che gli picchiasse nella testa per entrare, lo metteva in sospetto, e pareva la fiutasse con la diffidenza selvaggia della sua variata, però non mostrava meraviglia di nulla al mondo. Gli avessero detto che in città i cavalli andavano in carrozza, egli sarebbe rimasto impassibile, con quella maschera di indifferenza orientale, che è la dignità del contadino siciliano. Pareva che istintivamente si trincerasse nella sua ignoranza, come fosse la forza della povertà. Tutte le volte che rimaneva a corto di argomenti, ripeteva, io non ne so nulla, io sono povero, con quel sorriso ostinato che voleva essere malizioso. Aveva chiesto a suo amico Alfonso di scrivergli il nome di Mara, su di un pezzetto di carta, che aveva trovato chissà dove, perché egli raccattava tutto quello che vedeva per terra. E se l'era messo nel batuffoletto dei cenci. Un giorno, dopo di essere stato un po' zitto, a guardare di qua e di là sopra il pensiero, gli disse, serio serio, io c'ho l'innamorata. Alfonso, malgrado che sapesse leggere, sgranava gli occhi. Sì, ripete Ieli, Mara, la figlia di Massaro Agrippino, che era qui, ed ora sta a Marineo, incolgherà il casamento della pianura che si vede dal piano del lettighiere, lassù. Oti mariti, dunque? Sì, quando sarò grande avrò sei onze all'anno di salario. Mara, non ne sa ancora nulla. Perché non gliel'hai detto? Ieli tentennò il capo e si mise a riflettere. Poi svolse il batuffoletto e spiegò la carta che s'era fatta scrivere. È proprio vero che dice Mara. L'ha letto pure Don Gesualdo, il campiere, e fracola, quando venne giù per la cerca delle fave. Uno che sappia scrivere, osservò poi, è come uno che serbasse le parole nella scatola del lacciarino, e potesse portarsene in tasca, ed anche mandarle di qua e di là. Ora che ne farai di quel pezzetto di carta, tu che non sai leggere? Gli domandò Alfonso. Ieli si strinse nelle spalle, ma continuò ad avvolgere accuratamente il suo foglionino scritto nel batuffoletto dei cenci. La Mara l'aveva conosciuta da bambina, che avevano cominciato ad alpicchiarsi ben bene, una volta che si erano incontrati lungo il vallone, a cogliere le more delle siepi di rovo. La ragazzina, la quale sapeva di essere nel fatto suo, aveva agguantato pel collo ieli, come un ladro. Per un po' si erano scambiati dei pugni nella schiena, uno tu ed uno io, come fa il bottaio sui cerchi delle botti. Ma quando furono stanchi, andarono calmandosi a poco a poco, tenendosi sempre acciuffati. — Tu chi sei? Gli domandò Mara. E come ieli, più selvatico, non diceva chi fosse. — Io sono Mara, la figlia di Massaro Agrippino, che è il campaio di tutti questi campi qui. Ieli allora lasciò la presa senza dir nulla, e la ragazzina si mise a raccattare le more che le erano cadute per terra, sbirciando di tanto il tanto il suo avversario con curiosità. — Di là del ponticello, nella siepe dell'orto, ci sono tante more grosse, aggiunse la piccina, e se le mangiano le galline? Ieli intanto si allontanava quattroquattro, e Mara, dopo che stette ad accompagnarlo con gli occhi, finché poteva vederlo nel querceto, volse le spalle anche lei, e se la diede a gambe, verso casa. Ma da quel giorno in poi, cominciarono ad addomesticarsi. Mara andava a filare a stoppa sul parapetto del ponticello, e ieli, adagio adagio, spingeva l'armento verso le falde del poggio del bandito. Da prima se ne stava in disparte, ronzandole attorno, guardandola da lontano in aria sospettosa, e a poco a poco andava accostandosi con l'andatura guardingua del cane avvezzo alle sassate. Quando finalmente si trovavano accanto, ci stavano delle lunghe ore senza aprir bocca. Ieli, osservando attentamente l'intricato lavorio della calza, che la mamma aveva dato in compito alla Mara, oppure Costei, gli vedeva intagliare i bei zigzag sui bastoni del mandorlo. Poi se ne andavano l'uno di qua e l'altro di là, senza dirsi una parola, e la bambina, come era in vista della casa, si metteva a correre, facendo levar alta la sottanella sulle gambette rosse. Al tempo dei fichi d'India, poi, si fissarono nel folto delle macchie, sbucciando dei fichi tutto il santo giorno. Vagabondavano insieme sotto i noci secolari, e ieli bacchiava tante delle noci, che piovevano fitte come la gragnuola. La ragazzina si affaticava a raccattarne con grida di giubilo, più che ne poteva, e poi scappava via, lesta lesta, tenendo tese le due cocche del grembiule, dondolandosi come una vecchietta. Durante l'inverno, Mara non osò metter fuori il naso, in quel gran freddo. Alle volte, verso sera, si vedeva il fumo dei fuocarelli dei sommacchi, che ieli andava facendo nel piano del lettighiere, o sul poggio di macca, per non rimanere interizzito al pari di quelle cinciallegre che la mattina trovava dietro un sasso, o al riparo di una zolla. Anche i cavalli ci trovavano piacere a ciondolare un po' la coda attorno al fuoco, e si stringevano fra di loro, per stare più caldi. Col marzo tornarono le allodole nel piano, i passeri sul tetto, le foglie e i nidi nelle siepi. Mara ripresa ad andare a spasso, in compagnia di ieli, nell'erba soffice, tra le macchie in fiore, sotto gli alberi ancora nudi, che cominciavano a punteggiarsi di verde. Ieli si ficcava negli spinetti come un segugio, per andare a scovare delle nidiate di merli che guardavano sbalorditi coi loro occhietti di pepe. I due fanciulli portavano spesso nel petto della camicia dei piccoli conigli allora stanati, quasi nudi, ma dalle lunghe orecchie, di già inquiete. Scorazzavano pei campi al seguito del branco dei cavalli, entrando nelle stoppie dietro i mietitori, passo passo, con l'armento, fermandosi ogni volta che una giumenta si fermava a strappare una boccata d'erba. La sera, giunti al ponticello, se andavano l'una di qua e l'altro di là, senza dirsi addio. Così passarono tutta l'estate. Intanto il sole cominciava a tramontare dietro il poggio alla croce, e i petti rossi li andavano dietro, verso la montagna, come un bruniva, seguendolo fra le macchie dei fichi d'India. I grilli e le cicale non si udivano più, e in quell'ora per l'aria si spandeva come una grande malinconia. In quel tempo arrivò al casolare di Ieli suo padre, il vaccaro, che aveva preso la mararia a ragoletti, e non poteva nemmè reggersi sull'asino che lo portava. Ieli accese il fuoco, lesto lesto, e corse alle case, per cercargli qualche uovo di gallina. — Piuttosto stendi un po' di strame vicino al fuoco, gli disse suo padre, che mi sento tornare la febbre. Il ribrezzo della febbre era così forte, che comparo meno, seppellito sotto il suo gran tabarro, la bisaccia dell'asino e la sacchia di Ieli, tremava come fanno le foglie in novembre, davanti alla gran vampa di sarmenti che gli faceva il viso bianco bianco, come un morto. I contadini della fattoria venivano a domandargli, come vi sentite, compare menù. Il poveretto non rispondeva altro che con un guaito, come fa un cagnuolo di latte. — È malaria di quella che ammazza meglio di una schioppettata, dicevano gli amici, scaldandosi le mani al fuoco. Fu chiamato anche il medico, ma erano tutti i denari sprecati, perché la malattia era di quelle chiare e conosciute, che anche un ragazzo saprebbe cularla. E se la febbre non era di quelle che ammazzano ad ogni modo, col solfato si sarebbe guarita subito. Compare menù, ci spese gli occhi della testa in tanto solfato, ma era come buttarlo nel pozzo. — Prendete un buon decotto di ecavelì biso, che non costa nulla, suggeriva Mastro Agrippino. E se non serve a nulla come il solfato, almeno non vi rovinate a spendere. Si prendeva anche il decotto di eucaliptus, eppure la febbre tornava sempre, anche più forte. Ieli assisteva il genitore come meglio sapeva. Ogni mattina, prima ad andarsene, coi puledri, gli lasciava il decotto preparato nella ciotola, il fascio di sarmenti sotto la mano, le uova nella cenere calda, e tornava presto alla sera, con le altre legna per la notte, e il fiaschetto di vino e qualche pezzetto di carne di montone che era corso a comperare sino all'icodia. Il povero ragazzo faceva ogni cosa con garbo, come una brava massaia, e suo padre, accompagnandolo con gli occhi stanchi nelle sue faccenduole qua e là per casolare, di tanto in tanto sorrideva, pensando che il ragazzo avrebbe saputo aiutarsi, quando fosse rimasto solo. I giorni in cui la febbre cessava per qualche ora, compare meno si alzava tutto stravolto, e col capo stretto nel fazzoletto, e si metteva sull'uscio ad aspettare ieli, mentre il sole era ancora caldo. Come ieli lasciava cadere accanto all'uscio il fascio della legna, e posava sulla tavola il fiasco e le uova, egli diceva, metti a bollire le calibiso per stanotte, oppure, guarda che l'oro di tua madre la inconsegna alla zia Agata, quando non ci sarò più io. E ieli diceva di sì, col capo. E' inutile, ripeteva Massaro a grippino ogni volta che tornava a vedere compare meno con la febbre. Il sangue oramai è tutta una peste. Compare meno, ascoltava senza batter palpebra, col viso più bianco della sua berretta. Di già non si alzava più. Ieli si metteva a piangere, quando gli bastavano le forze per aiutarlo a voltarsi da un lato all'altro. Poco per volta compare meno, finì per non parlare nemmen più. Le ultime parole che disse al suo ragazzo furono, quando sarò morto, andrai dal padrone delle vacche, a Ragoletti, e ti farai dare le tre onze e i dodici tumolli di frumento che avanzo da maggio a questa parte. No, rispose ieli, sono soltanto due onze e quindici, perché avete lasciato le vacche che è più di un mese, e bisogna fare il conto giusto col padrone. È vero, affermò compare meno, succhiudendo gli occhi. Ora son proprio solo al mondo, come un puledro smarrito, che se lo possono mangiare i lupi, pensò ieli, quando gli ebbero portato il babbo al cimitero di Licodia. Mara era venuta a vedere anche lei la casa del morto, con la curiosità inquieta che destano le cose spaventose. Vedi come son rimasto? Le disse ieli. La ragazzetta si tirò indietro sbigottita, per paura che non la facesse entrare nella casa dove era stato il morto. Ieli andò a riscuotere il danaro del babbo, e se ne partì con l'armento per Passanitello, dove l'erba era già alta sul terreno lasciato pelmaggese, e il mangime era abbondante. Perciò i puledri vi restarono a pascolarvi per molto tempo. Frattanto ieli s'era fatto grande, ed anche Mara doveva esser cresciuta, pensava egli sovente, mentre suonava il suo zuffolo. Poi quando tornò a Tebidi, dopo tanto tempo, spingendosi innanzi ad agio ad agio le giumente per i viotoli sdrucciolevoli della fontana dello zio Cosimo, andava cercando con gli occhi il ponticello del vallone, il casolare nella valle degli Acitano, e il tetto delle case grandi, su cui svolazzavano sempre i colombi. Ma in quel tempo il padrone aveva licenziato Massaro Grippino, e tutta la famiglia di Mara stava soleggiando. Ieli trovò la ragazza, la quale s'era fatta grandicella e belloccia, alla porta del cortile, che teneva d'occhio la sua roba, mentre la caricavano sulla carretta. Ora la stanza vuota sembrava più scura e affumicata del solito. La tavola, e il letto, e il cassettone, e le immagini della vergine di San Giovanni, e fine chiodi per appendervi le zucche delle sementi, ci avevano lasciato il segno sulle pareti, dove erano state per tanti anni. Andiamo via, gli disse Mara, come lo vide osservare. Ce ne andiamo laggiù a Marineo, dove c'è quel gran casamento, nella pianura. Ieli si diede ad aiutare Massaro Grippino e l'Agnalia nel caricare la carretta, e allorché non ci fu altro da portare via nella stanza, andò a sedere con Mara sul parapetto dell'abbeveratoio. Anche le case, le disse, quando ebbe visto accatastare l'ultima cesta sulla carretta, anche le case, come se ne toglie via la loro roba, non sembrano più quelle. A Marineo, rispose Mara, ci avremo una camera più bella, ha detto la mamma, e grande come il magazzino dei formaggi. Ora che tu sarai via, non voglio venirci più qui, che mi parrà di essere tornato l'inverno, a vedere quell'uscio chiuso. A Marineo, invece, troveremo dell'altra gente, Pudda, la rossa, e la figlia del campiere. Si starà allegri, per la messe verranno più di ottanta mietitori, con la corna musa, e si ballerà sull'aia. Massaro Grippino e sua moglie si erano avviati con la carretta. Mara correva loro dietro tutta allegra, portando il paniere coi piccioni. Ieli volle accompagnarla sino al ponticello, e quando Mara stava per scomparire nella vallata, la chiamò. — Mara! Oh! Mara! Che vuoi? disse Mara. Egli non lo sapeva che voleva. — Oh tu! Cosa farai qui tutto solo? Gli domandò allora la ragazza. — Io resto coi puledri. Mara se ne andò saltellando, e lui rimase lì, fermo, finché poteva udire il rumore della carretta che rimbalzava sui sassi. Il sole toccava le rocce alte del poggio alla croce. Le chiome grigie degli ulivi sfumavano nel crepuscolo, e per la campagna vasta, lontan lontano, non suddiva altro che il campanaccio della bianca nel silenzio che si allargava. Mara, come se ne fu andata a Marineo, in mezzo alla gente nuova e alle faccende della vendemmia, si scordò di lui. Ma Ieli ci pensava sempre a lei, perché non aveva altro da fare, nelle lunghe giornate che passava a guardare la coda delle sue bestie. Adesso non aveva poi motivo alcuno per calare nella valle, di là del ponticello, e nessuno lo vedeva più alla fattoria. In tal modo ignorò per un pezzo che Mara si era fatta sposa, giacché dell'acqua, intanto, ne era passata e passata sotto il ponticello. Egli rivide soltanto la ragazza il dì della festa di San Giovanni, come andò alla fiera coi puledri da vendere. Una festa che gli si mutò tutta in veleno, e gli fece cascare il pan di bocca, per un accidente toccato a uno dei puledri del padrone, Dione Scampi. Il giorno della fiera il fattore aspettava i puledri sin dall'alba, andando su e giù con gli stivali inverniciati dietro le gruppe dei cavalli e dei muli, messi in fila di qua e di là dello stradone. La fiera era già sul finire, né i jeli spuntava ancora con le bestie, di là dal gomito che faceva lo stradone. Sulle pendici, riarse del calvario e del mulino a vento, rimaneva tuttora qualche branco di pecore, strette in cerchio col muso a terra e l'occhio spento, e qualche pariglia di buoi dal pelo lungo, di quegli che si vendono per pagare il fitto delle terre, che aspettavano immobili sotto il sole cocente. Laggiù, verso la valle, la campana di San Giovanni suonava la messa grande, accompagnata dal lungo crepitio dei mortaletti. Allora il campo della fiera sembrava trassalire, e correva un gridio che si prolungava fra le tende dei treccioni, schierate nella salita dei galli, scendeva per le vie del paese, e sembrava ritornare dalla valle dove era la chiesa. Viva San Giovanni, santo diavolone, strillava il fattore, quell'assassino di Ieli mi farà perdere la fiera. Le pecore levavano il muso attonito, e si mettevano a belare tutte in una volta, e anche i buoi facevano qualche passo lentamente, guardando in giro, con grandi occhi intenti. Il fattore era così incollera, perché quel giorno doveva si pagare il fitto delle chiuse grandi, come San Giovanni fosse arrivato sotto l'olmo, diceva il contratto. E a completare la somma, si era fatto assegnamento sulle vendite dei puledri. Intanto di puledri, e cavalli, e muli, ce n'erano quanti il signore ne aveva fatti, tutti strigliati e lucenti, ornati di fiocchi e nappine, e sonagli, che scondinzolavano per scacciare la noia. E voltavano la testa verso ognuno che passava, come aspettassero un'anima caritettevole che volesse comprarli. — Si sarà messo a dormire, quell'assassino, seguitava a gridare il fattore, e mi lasci i puledri sulla pancia! Invece Ieli aveva camminato tutta la notte, a ciò che i puledri arrivassero freschi alla fiera, e prendessero un buon posto nell'arrivare. Ed era giunto al piano del corvo, che ancora i tre re non erano tramontati. E luccicavano sul monte Arturo, con le braccia in croce. Per la strada passavano continuamente carri e gente a cavallo, che andavano alla festa. Per questo il giovanetto teneva ben aperti gli occhi. A ciò i puledri, spaventati dall'insolito via vai, non si sbandassero, ma andassero uniti lungo il ciglione della strada, dietro la bianca che camminava diritta e tranquilla, col campanaccio al collo. Di tanto in tanto, allorché la strada correva sulla sommità delle colline, si udiva sin laggiù la campana di San Giovanni. Che anche nel buio e nel silenzio della campagna arrivava la festa, e per tutto lo stradone, lontan lontano, sin dove c'era gente a piedi o a cavallo, che andava a vizzini, si udiva a gridare. Viva San Giovanni! E i razzi salivano di ritti e lucenti, dietro i monti della Canziria, come le stelle che piovono in agosto. E' come la notte di Natale, andava dicendo Ieli al ragazzo che l'aiutava a condurre il branco, che in ogni fattoria si fa festa e luminaria, e per tutta la campagna si vedono qua e là dei fuochi. Il ragazzo sonnecchiava, spingendo ad agio ad agio una gamba dietro l'altra, e non rispondeva nulla. Ma Ieli, che si sentiva rimescolare tutto il sangue da quella campana, non poteva star zitto, come se ognuno di quei razzi, che strisciavano sul buio, taciti e lucenti, dietro il monte, gli sbocciassero dall'anima. Mara sarà andata anche lei alla festa di San Giovanni, diceva, perché ci va tutti gli anni. E senza curarsi che Alfio, il ragazzo, non rispondesse nulla. Tu non sai? Ora Mara è alta così, che è più grande di sua madre che l'ha fatta, e quando l'ho rivista, non mi pareva vero che fosse proprio quella stessa con cui si andava a cogliere i fichi d'India e a bacchiare le noci. E si mise a cantare ad alta voce tutte le canzoni che sapeva. — Oh, Alfio, che, dormi? Gli gridò quando abbe finito. — Bada che la bianca ti viene sempre dietro. Bada! — No, non dormo, rispose Alfio con voce rauca. — La vedi, la puddara, che sta ad ammiccarci lassù, verso Granvilla, come sparassero dei razzi anche a Santa Domenica? Poco può passare a romper l'alba. Pur alla fiera arriveremo in tempo per trovare un buon posto. — Ehi, Morellino bello, che ci avrai la cabeza nuova, con le nappine rosse, per la fiera, e anche tu, stellato! Così andava parlando all'uno e all'altro dei puledri, perché si rinfrancassero, sentendo la sua voce al buio. Ma gli doleva che lo stellato e il Morellino andassero alla fiera per esser venduti. — Quando saranno venduti, se ne andranno col padrone nuovo, e non si vedranno più nella mandria. — Com'è stato di Mara, dopo che se ne fu andato a Marineo? Suo padre sa benone laggiù a Marineo, che quando andai a trovarli, mi misero dinanzi pane, vino, formaggio e ogni ben di Dio, perché egli è quasi il fattore, ed ha le chiavi di ogni cosa, e avrei potuto mangiarmi tutta la fattoria, se avessi voluto. Mara non mi conosceva quasi più da tanto che non mi vedeva, e si mise a gridare. — Oh, guarda! È Ieli, il guardiano dei cavalli, quello di Tebidi! Gli è come quando uno torna da lontano, che al veder soltanto il cocuzzolo di un monte, gli basta riconoscere subito il paese dove è cresciuto. L'Agnalia non voleva che le dessi più del tu, alla Mara, ora che sua figlia si è fatta grande, perché la gente, che non sa nulla, chiacchiera facilmente. Mara, invece, rideva, e sembrava che avesse infornato il pane allora allora, tanto era rossa. Apparecchiava la tavola, e spiegava la tovaglia, che non pareva più quella. — Oh, che ti rammenti più di Tebidi! Le chiese appena l'Agnalia fu sortita per spillare del vino fresco dalla botte. — Sì, sì, me ne rammento, mi disse ella. A Tebidi c'era la campana, col campanile che pareva un manico di saliera, e si suonava dal ballatoio. E c'erano pure due gatti di sasso, che facevano le fusa sul cancello del giardino. Io me le sentivo qui dentro tutte quelle cose, come ella andava dicendole. Mara mi guardava da capo a piedi, con tanto d'occhi, e tornava a dire, come ti sei fatto grande, e si miso pure a ridere, e mi diede una scapaccione qui, sulla testa. In tal modo Ieli, il guardiano dei cavalli, perdette il pane, perché giusto in quel punto sopravveniva all'improvviso una carrozza che non si era udita prima, mentre saliva all'erta passo passo, e si era messa al trotto, come era giunta al piano. Con gran strepito di frusta e di sonagli, quasi la portasse il diavolo. I puleidri spaventati si sbandarono in un lampo, che pareva un terremoto, e ce ne vollero delle chiamate, delle grida e degli oi, 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 di Ieli e del ragazzo, prima di raccoglierli intorno alla bianca. La quale, anch'essa, trotterellava svogliatamente col campanaccio al collo. Appena Ieli ebbe contato le sue bestie, si accorse che mancava lo stellato, e si cacciò le mani nei capelli, perché in quel posto la strada correva lungo il burrone. E fu nel burrone che lo stellato si farcassò le reni, un puleidro che valeva dodici onze, come dodici angeli del paradiso. Piangendo e gridando, Ieli andava chiamando il puleidro. Auu, 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 che non ci si vedeva ancora. Lo stellato rispose dal fondo del burrone, con un nitrito doloroso, come avesse avuto la parola, povera bestia. Oh, mamma mia! Andavano gridando Ieli e il ragazzo. Oh, che disgrazia, mamma mia! I viandanti che andavano alla festa, e sentivano piangere a quel modo in mezzo al buio, domandavano cosa avessero perso, e poi, come sapevano di che si trattava, andavano per la loro strada. Lo stellato rimaneva immobile dove era caduto, con le zampe in aria, e mentre Ieli andava tastando per ogni dove, piangendo e parlandogli quasi avesse potuto farsi intendere, la povera bestia rizzava il collo penosamente, e voltava la testa verso di lui, che si udiva l'anelito rotto dallo spasimo. Qualche cosa si sarà rotto, piangucolava Ieli, disperato di non poter vedere nulla per il buio, e il puledro, inerte, come un sasso, lasciava ricadere il capo di peso. Alfio, rimasto sulla strada a custodia del branco, s'era rasserenato per il primo, e aveva tirato fuori il pane dalla sacca. Ora il cielo s'era fatto bianchiccio, e i monti, tutti intorno, parevano che spuntassero ad uno ad uno, neri ed alti. Dalla svolta dello stradone si cominciava a scorgere il paese, col monte del Calvario e del mulino a vento stampato sull'albore, ancora foschi. Seminati dalle chiazze bianche delle pecore, e come i buoi che pascolavano sul cocuzzolo del monte, nell'azzurro, andavano di qua e di là, sembrava che il profilo del monte stesso si animasse e formicolasse di vita. La campana, dal fondo del burrone, non si udiva più. I viandanti si erano fatti più rari, e quei pochi che passavano avevano fretta di arrivare alla fiera. Il povero Ieli non sapeva a quale santo votarsi in quella solitudine. Lo stesso Alfio, da solo, non poteva giovargli per niente. Perciò costui andava sbocconcellando pian piano il suo pezzo di pane. Finalmente si vede avvenire a cavallo il fattore, il quale da lontano stripitava e bestemmiava correndo, al vedere gli animali fermi sulla strada, sicché lo stesso Alfio se la diede a gambe per la collina. Ma Ieli non si mosse d'accanto allo stellato. Il fattore lasciò la mula sulla strada, e scese nel burrone anche lui, cercando di aiutare il puledro ad alzarsi e tirandolo per la coda. — Lasciatelo stare, diceva Ieli, bianco in viso come se si fosse facassate le reni lui, lasciatelo stare. Non vedete che non si può muovere, povera bestia. Lo stellato, infatti, ad ogni movimento e ad ogni sforzo che gli facevano fare, metteva un rantolo che pareva un cristiano. Il fattore si sfogava a calci e scapaccioni su di Ieli, e tirava pei piedi gli angeli e i santi del paradiso. Allora Alfio, più rassicurato, era tornato sulla strada, per non lasciare le bestie senza custodia, e badava a scolparsi dicendo, io non c'ho colpa, io andavo ed innanzi con la bianca. — Qui non c'è più nulla da fare, disse al fine il fattore, dopo che si persuase che era tutto tempo perso. Qui non se ne può prendere altro che la pelle, finché è buona. Ieli si mise a tremare come una foglia. Quando vide il fattore andare a staccare lo schioppo dal basso della mula. — Levati di lì, pane perso, gli urlò il fattore. — Che non so chi mi tenga dallo stenderti per terra accanto a quel puledro, che valeva assai più di te, con tutto il battesimo porco che ti diede quel prete ladro. Lo stellato, non potendosi muovere, volgeva il capo con grandi occhi sbarrati, quasi avesse inteso ogni cosa, e il pelo gli si arricciava ad onde, lungo le costole. Sembrava ci corresse sotto un brivido. In tal modo il fattore uccise sul luogo lo stellato, per cavarne almeno la pelle, e il rumore fiacco che fece dentro le carni vive il colpo tirato a bruciapelo, parva ieli di sentirselo dentro di sé. — Ora, se vuoi sapere il mio consiglio, gli lasciò detto il fattore, cerca di non farti vedere più dal padrone per quel salario che avanzi, perché te lo pagherebbe salato assai. Il fattore se ne andò insieme ad Alfio, con gli altri puledri, che non si voltavano nemmeno a vedere dove rimanesse lo stellato, e andavano strappando l'erba dal ciglione. E lo stellato rimase solo nel burrone, aspettando che venissero a scuoiarlo, con gli occhi ancora spalancati, e le quattro zampe distese, beato lui, che non penava più, infine. Ieli, ora che aveva visto con qual ceffo il fattore aveva preso di mira il puledro e tirato il colpo, mentre la povera bestia volgeva la testa penosamente, quasi avesse il giudizio, smise di piangere, e se ne state a guardare lo stellato, duro duro, seduto sul sasso, fin quando arrivarono gli uomini che dovevano prendersi la pelle. Adesso poteva andarsene a spasso, a godersi la festa, o starsene in piazza tutto il giorno, a vedere i galantuomini nel casino, come meglio gli piaceva, che non aveva più né pane né tetto, e bisognava cercarsi un padrone, seppure qualcuno lo voleva, dopo la disgrazia dello stellato. Le cose del mondo vanno così. Mentre Ieli andava cercando un padrone, con la sacca d'armacollo e il bastone in mano, la banda suonava in piazza allegramente, coi pennacchi sul cappello, in mezzo a una folla di berrette bianche fitte come mosche, e i galantuomini stavano a godersela seduti nel casino. Tutta la gente era vestita da festa, come gli animali della fiera, e in un canto della piazza c'era una donna con la gonnella corta e le calze color di carne, che pareva con le gambe nude, e picchiava sulla gran cassa, davanti a un gran lenzuolo dipinto, dove si vedeva una carnificina di cristiani, col sangue che colava a fiumi, e nella folla che stava a guardare a bocca aperta, c'era pure Massaro Cola, il quale conosceva Ieli da quando stava a Passanitello, e gli disse che il padrone gliel'avrebbe trovato lui, poiché compare Isidoro Macca cercava un guardiano per i porci. Però non dir nulla dello stellato, gli raccomandò Massaro Cola. Una disgrazia come quella può accadere a tutti nel mondo, ma è meglio non parlarne. Andarono perciò a cercare compare Macca, il quale era al ballo, e nel tempo che Massaro Cola entrò a fare l'ambasciata, Ieli aspettò sulla strada, in mezzo alla folla che stava a guardare dalla porta della bottega. Nella stanzaccia c'era un mondo di gente, che saltava e si divertiva, tutti rossi e scalmanati, e facevano un gran pestare di scarponi sull'ammattonato, che non si udiva nemmeno il ron ron del contrabbasso. E appena finiva una suonata, che costava un grano, levavano il dito per far segno che ne volevano un'altra, e quello del contrabbasso faceva una croce col carbone sulla parete, per memoria, e cominciava da capo. Questi li spendono senza pensarci, s'andava dicendo Ieli, e vuol dire che hanno la tasca piena, e non sono in angustia come me, per difetto di un padrone, se sudano e s'affannano a saltare per loro piacere, quasi fossero presi a giocare. Ma Saroccola tornò dicendo che compare Macca non aveva bisogno di nulla, allora Ieli volse le spalle e se ne andò, mogio mogio. Ma stava di casa verso Sant'Antonio, dove le case si arrampicano sul monte, di fronte al vallone della canseria, tutto verde di fichi d'India, e con le ruote dei mulini che spumeggiavano in fondo nel torrente. Ma Ieli non ebbe il coraggio di andare da quelle parti, ora che non l'aveva non voluto nemmeno per guardare i porci, e girandolando in mezzo alla folla che lo urtava e lo spingeva senza curarsi di lui, gli pareva di essere più solo di quando era coi puledri nelle lande di Passanitello, e si sentiva voglia di piangere. Finalmente Massaro Agrippino lo incontrò nella piazza, che andava di qua e di là con le braccia ciondoloni, godendosi la festa, e cominciò a gridargli dietro. — Oh, Ieli, oh! E se lo menò a casa. Mara era in gran gala, con tanto d'orecchini che le sbattevano sulle guance, e stava sull'uscio, con le mani sulla pancia, carica d'anelli, ad aspettare che imbrunisse, per andare a vedere i fuochi. — Oh! disse Mara, sei venuto anche tu alla festa di San Giovanni. Ieli veramente non esava entrare, perché era vestito male. Però Massaro Agrippino lo spinse per le spalle, dicendogli che non si vedevano allora per la prima volta, e che si sapeva che era venuto per la fiera coi puledri del padrone. L'agnalia gli versò un bel bicchiere di vino, e volle condurlo con loro a vedere la luminaria, insieme alle comarie e dai vicini. Arrivando in piazza, Ieli rimase a bocca aperta dalla maraviglia. Tutta quanta era un mare di fuoco, come quando si incendiano le stoppie, per il gran numero di razzi che i devoti accendevano in cospetto del santo, il quale stava a goderseli dall'imboccatura del rosario, tutto nero sotto il baldocchino d'argento. I devoti andavano e venivano fra le fiamme, come tanti diavoli, e c'era persino una donna discinta, spettinata, con gli occhi fuori della testa, che accendeva i ranzi anch'essa, e un prete con la sottana in aria, senza cappello, che pareva uno sesso dalla devozione. — Quello lì è il figliuolo di Massaro Neri, il fattore della Salonia, e spende più di dieci lire di razzi, diceva l'agnalia, accennando un giovinotto che andava in giro per la piazza, tenendo due razzi alla volta nelle mani, come due candele, sicché tutte le donne se lo mangiavano con gli occhi e gli gridavano «Viva San Giovanni!» Suo padre è ricco, e possiede più di venti capi di bestiame, aggiunse Massaro Agrippino. Mara sapeva pure che aveva portato lo stendardo grande nella processione, e lo reggeva diritto come un fuso, tanto era forte e bel giovane. Il figlio di Massaro Neri pareva che sentisse quei discorsi, e accendesse i razzi per la Mara, facendo la ruota dinanzi a lei, tanto che dopo i fuochi si accompagnò con loro, e li condusse al ballo e al cosmorama, dove si vedeva il mondo vecchio e il mondo nuovo, pagando lui, ben inteso, anche per Ieli, il quale andava dietro la comitiva come un cane senza padrone, a veder ballare il figlio di Massaro Neri con la Mara, la quale girava in tondo e si accoccolava come una colombella in amore, e teneva tesa con bel garbo una cocca del grembiale. Il figlio di Massaro Neri, lui, saltava come un puledro, tanto che l'agnalia piangeva dalla consolazione, e Massaro Agrippino faceva cenno di sì col capo, che la cosa andava bene. Infine, quando furono stanchi, se ne andarono di qua e di là nel passeggio, trascinati dalla folla, quasi fossero in mezzo a una fiumana, a vedere i trasparenti illuminati, dove tagliavano il collo a San Giovanni, che avrebbe fatto pietà agli stessi turchi, e il santo sgambettava come un capriolo, sotto la mannaia. Lì vicino c'era la banda che suonava, sotto un gran paracqua di legno tutto illuminato, e nella piazza una folla tanto stipata, che mai saranno visti tanti cristiani a una fiera. Mara andava al braccio del figlio di Massaro Neri come una signorina, e gli parlava nell'occhio, e rideva che pareva si divertisse assai. Ieli non ne poteva più dalla stanchezza, e si mise a dormire seduto sul marciapiede, fin quando lo svegliarono i primi petardi del fuoco d'artifizio. In quel momento Mara era sempre al fianco del figlio di Massaro Neri, gli si appoggiava con le due mani intrecciate sulla spalla, e al lume dei fuochi colorati sembrava ora tutta bianca ed ora tutta rossa. Quando scapparono pel cielo gli ultimi razzi in mucchio, il figlio di Massaro Neri si voltò verso di lei, bianca in viso, e le diede un bacio. Ieli non disse nulla, ma in quel punto gli si cambiò in veleno tutta la festa che aveva goduto sino allora, e tornò a pensare a tutte le sue disgrazie, che gli erano uscite di mente, e che era rimasto senza padrone, e che non sapeva più che fare né dove andare, e che non aveva più né pane né tetto. Insomma, che era meglio andare a buttarsi nel burrone, come lo stellato, che se lo mangiavano i cani a quell'ora. Intanto attorno a lui la gente era allegra. Mara con le compagne saltava e cantava per la stradicciola sassosa, mentre tornavano a casa. «Buonanotte, buonanotte!» andavano dicendo le compagne, a misura che si lasciavano per la strada. Mara dava la buonanotte, che pareva che cantasse, tanta contentezza ci aveva nella voce, e il figlio di Massaro Neri, poi, sembrava proprio imbestialito, e non volesse lasciarla più. Mentre Massaro Agrippino e l'Agnalia litigavano nell'aprire l'uscio di casa. Nessuno badava a Ieli, soltanto Massaro Agrippino si rammentò di lui, e gli chiese. «E ora dove andrai?» «Non lo so», disse Ieli. «Domani vieni a trovarmi, e ti aiuterò a cercare d'allogarti. Per stanotte torna in piazza, dove siamo stati, a sentir suonare la banda. Un posto, su qualche panchetta, lo troverai, e a dormire allo scoperto, tu devi esserci avvezzo». «Sì che c'era avvezzo, ma quello che gli dava maggior pena, era che Mara non gli dicesse nulla, e lo lasciasse a quel modo sull'uscio come un pezzente, tanto che glielo disse il giorno dopo, appena poté trovarla in casa un momento sola. «Oh, Gnamara, come li scordate gli amici?» «Oh, sei tu Ieli?» disse Mara. «No, io non ti ho scordato, ma ero così stanca dopo i fuochi». «Gli volete bene, almeno, al figlio di Massaro Neri?» chiese lui, voltando e rivoltando il bastone fra le mani. «Che discorsi andate facendo?» rispose bruscamente la Gnamara. «Gna madre di là, che sente tutto». Massaro Agrippino gli trovò da allogarlo come pecoraio alla Salonia, dove era fattore Massaro Neri, ma siccome Ieli era poco pratico del mestiere, si dovette contentare di un salario assai magro. Adesso badava alle sue pecore, e ad imparare come si fa il formaggio, e la ricotta, e il caciocavallo, e ogni altro frutto di mandra. Ma fra le chiacchiere che correvano alla sera nel cortile, tra gli altri pastori e i contadini, mentre le donne sbucciavano le fave della minestra, se si veniva a parlare del figlio di Massaro Neri, il quale si prendeva in moglie, Mara di Massaro Agrippino, Ieli non diceva più nulla, e nemmeno osava di aprir bocca. Una volta che il campaio lo motteggiò, dicendogli che Mara non aveva voluto saperne più di lui, dopo che tutti avevano detto che sarebbero stati marito e moglie, Ieli, che badava alla pentola in cui bolliva il latte, rispose facendo sciogliere il caglio ad agio ad agio. Ora Mara si è fatta più bella col crescere, che sembra una signora. Però, siccome egli era paziente e laborioso, imparò presto ogni cosa del mestiere, meglio di uno che ci fosse nato, e siccome era avvezzo a star con le bestie, amava le sue pecore come se le avesse fatte lui. E quindi il male alla Salonia non faceva tanta strada, e la mandra prosperava che era un piacere per Massaroneri, tutte le volte che veniva alla fattoria, tanto che ad anno nuovo si persuase ad indurre il padrone perché aumentasse il salario di Ieli, sicché costui venne ad avere quasi quello che prendeva col fare il guardiano dei cavalli. Ed erano danari benespesi, perché Ieli non badava a contare le miglia e le miglia, per cercare i migliori pascoli ai suoi animali. E se le pecore figliavano o erano malate, se le portava a pascolare dentro le bisacce dell'asinello, e si recava in collo gli agnelli che gli belavano sulla faccia, col muso fuori dal sacco, e gli poppavano le orecchie. Nella nevigata famosa della notte di Santa Lucia, la neve cadde alta quattro palmi nel lago morto alla Salonia, e tutto all'intorno per miglia e miglia, che non si vedeva altro per tutta la campagna, come venne il giorno. Quella volta sarebbe stata la rovina di Massaro Neri, come fu per tanti altri del paese, se Ieli non si fosse alzato nella notte tre o quattro volte a cacciare le pecole per chiuso. Così le povere bestie si scuotevano la neve di dosso, e non rimasero seppellite come tante ce ne furono nelle mandre vicine. A quel che disse Massaro Agrippino, quando venne a dare un'occhiata ad un campicello di fave che ci aveva alla Salonia, e disse pure che di quell'altra storia del figlio di Massaro Neri, il quale doveva sposare sua figlia Mara, non era vero niente, che Mara aveva tutt'altro per il capo. — Se avevano detto che dovevano sposarsi a Natale, disse Ieli. — Non è vero niente, non dovevano sposare nessuno. — Tutte chiacchiere di gente invidiosa che si mischia negli affari altrui, rispose Massaro Agrippino. Però il campaio, il quale la sapeva più lunga, per averne sentito parlare in piazza quando andava in paese la domenica, raccontò invece la cosa tale e quale com'era, dopo che Massaro Agrippino se ne fu andato. Non si sposavano più, perché il figlio di Massaro Neri aveva risaputo che Mara, di Massaro Agrippino, se la intendeva con don Alfonso, il signorino, il quale aveva conosciuta Mara da piccola, e Massaro Neri aveva detto che il suo ragazzo voleva che fosse onorato come suo padre, e delle corne in casa non le voleva altre che quelle dei suoi buoi. Ieli era lì presente anche lui, seduto in circolo con gli altri e a colazione, e in quel momento stava affettando il pane. Egli non disse nulla, ma l'appetito gli andò via per quel giorno. Mentre conduceva al pascolo le pecore, tornò a pensare a Mara, quando era ragazzina, che stavano insieme tutto il giorno e andavano nella valle degli Acitano e su Poggio alla croce, ed ella stava a guardarlo col mento in aria, mentre egli si arrampicava a prendere i nidi sulle cime degli alberi. E pensava anche a don Alfonso, il quale veniva a trovarlo dalla villa vicina, e si sdraiavano bocconi sull'erba a stuzzicare con un fuscellino i nidi di grilli. Tutte quelle cose andava rimuginando, per ore ed ore, seduto sull'orlo del fossato, tenendosi i ginocchi fra le braccia, e i noci alti di Tebidi, e le folte macchie dei valloni, e le pendici delle colline verdi di Sommacchi, e gli ulivi grigi, che si addossavano nella valle come nebbia, e i tetti rossi del casamento, e il campanile, che sembrava un manico di saliera, fra gli aranci del giardino. Qui la campagna gli si stendeva dinnanzi Brulla, deserta, chiazzata dell'erba riarsa, sfumando silenziosa nella fa lontana. In primavera, appena i baccelli delle fave cominciavano a piegare il capo, Mara venne alla salonia col babbo e la mamma, e il ragazzo e l'asinello, a raccogliere le fave, e tutti insieme vennero a dormire alla fattoria, per i due o tre giorni che durò la raccolta. Ieli, in tal modo, vedeva la ragazza mattina e sera, e spesso sedevano accanto al murciolo delle olive, a discorrere insieme, mentre il ragazzo contava le pecore. Mi pare d'essere attebili, diceva Mara, quando eravamo piccoli e stavamo sul ponticello della viottola. Ieli si rammentava di ogni cosa, anche lui, sebbene non dicesse nulla, perché era stato sempre un ragazzo giudizioso e di poche parole. Finita la raccolta, alla vigilia della partenza, Mara venne a salutare il giovanotto, nel tempo che stava facendo la ricotta, ed era tutto intento a raccogliere il siero con la cazza. Ora ti dico addio, gli disse ella, perché domani torniamo a Vizzini. Come sono andate le fave? Male sono andate. La lupa le ha mangiate tutte, quest'anno. Dipende dalla pioggia, che è stata scarsa, disse Ieli. Figurati che si è dovuto uccidere anche le agnelle, perché non avevano da mangiare. Su tutta la Salonia non venne tre dita d'erba. Ma a te poco te ne importa, il salario l'hai sempre, buona o malannata. Sì, è vero, disse lui, ma mi rincresce dare quelle povere bestie in mano al beccaio. Ti ricordi quando sei venuto per la festa di San Giovanni ed eri rimasto senza padrone? Sì, me lo ricordo. Fu mio padre che ti allogò qui, da Massaro Neri. E tu, perché non l'hai sposato il figlio di Massaro Neri? Perché non c'era la volontà di Dio. Mio padre è stato sfortunato, ripreso di lì a poco. Da che ce ne siamo andati a Marineo, ogni cosa ci è riuscita male. La fava, il seminato, quel pezzetto di vigna che ci abbiamo lassù. Poi mio fratello è partito soldato, e c'è morta pure una mula, che valeva quarant'onze. Lo so, rispose Ieli, la mula baia. Ora che abbiamo perso la roba, chi vuoi che mi sposi? Mara andava sminuzzando uno sterpolino di pruno, mentre parlava, col mento sul seno e gli occhi bassi, e col gomito stuzzicava un po' il gomito di Ieli, senza badarci. Ma Ieli, con gli occhi sulla zangola anche lui, non rispondeva nulla, sicché ella riprese. A Tebidi dicevano che saremmo stati marito e moglie, loro a menti. Sì, disse Ieli, e posò la cazza sull'orlo della zangola. Ma io sono un povero pecoraio, e non posso pretendere alla figlia di un massaro come sei tu. La Mara rimase un pochino zitta, e poi disse, se tu mi vuoi, io per me ti piglio volentieri. Davvero? Sì, davvero. E ma sarà Grippino, cosa dirà? Mio padre dice che ora il mestiere tu lo sai, e tu non sei di quelli che vanno a spendere il loro salario, ma di un soldo ne fai due, e non mangi per non consumare il pane, così arriverai ad avere delle pecore anche tu, e ti farai ricco. Se è così, conchiuso Ieli, ti piglio volentieri anch'io. Toh! Gli disse Mara, come si era fatto buio, e le pecore andavano tacendosi a poco a poco. Se vuoi un bacio adesso, te lo do, poiché saremo marito e moglie. Ieli se lo prese in santa pace, e non sapendo che dire, aggiunse, io t'ho sempre voluto bene, anche quando volevi lasciarmi pel figlio di Massaro Neri. Ma non ebbe cuore di dirgli di quell'altro. Non lo vedi? Eravamo destinati, conchiuse Mara. Massaro Grippino, infatti, disse di sì, e l'agnalia mise insieme presto un giubbone nuovo, e un paio di brache di velluto per il genero. Mara era bella e fresca come una rosa, con quella mantellina bianca che sembrava l'agnello pasquale, e quella collana d'ambra che le faceva il collo bianco. Sicché Ieli, quando andava per le strade al fianco di lei, camminava impalato, tutto vestito di panno e di velluto nuovo, e non osava soffiarsi il naso col fazzoletto di seta rosso, per non farsi scorgere. Ma i vicini, e tutti quelli che sapevano la storia di don Alfonso, gli ridevano sul naso. Quando Mara disse sì, signore, e il prete gliela diede in moglie con un gran crocione, Ieli se la condusse a casa, e gli parve che gli avessero dato tutto l'oro della Madonna, e tutte le terre che aveva visto con gli occhi. Ora che siamo marito e moglie, le disse giunti a casa, seduto di faccia a lei e facendosi piccino piccino, ora che siamo marito e moglie, posso dirtelo che non mi par vero che tu m'abbia voluto. Mentre avresti potuto prenderne tanti meglio di me, così bella come tu sei. Il poveraccio non sapeva dirle altro, e non capiva nei panni nuovi dalla contentezza di vedersi Mara per casa, che rassettava e toccava ogni cosa, e faceva la padrona. Egli non trovava il verso di spiccicarsi dall'uscio per tornarsene alla Salonia. Ma quando fu venuto il lunedì, indugiava nell'assettare sul basto dell'asinello le bisacce, il tabarro e il paracqua ad incerata. Tu dovresti venirtene alla Salonia anche te, disse alla moglie che stava a guardarlo dalla soglia, tu dovresti venirtene con me. Ma la donna si mise a ridere, e gli rispose che ella non era nata per far la pecoraia, e non aveva nulla da andare a farci alla Salonia. Infatti Mara non era nata a far la pecoraia, e non c'era avvezza la tramontana di gennaio, quando le mani si irrigidiscono sul bastone, e sembra che vi caschino le unghie, e ai furiosi acquazzoni, in cui l'acqua vi penetra fino alle ossa, e alla polvere soffocante delle strade, quando le pecore camminano sotto il sole coccente, e al giaciglio duro e al pane muffito, e alle lunghe giornate silenziose e solitarie, in cui per la campagna arsa non si vedeva altro di lontano, rare volte, che qualche contadino nero dal sole, il quale si spinge innanzi silenzioso l'asinello, per la strada bianca e interminabile. Almeno Ieli sapeva che Mara stava al caldo sotto le coltri, o filava davanti al fuoco, incrocchio con le vicine, o si godeva il sole sul ballatoio, mentre egli tornava dal pascolo stanco ed assetato, o fradicio di pioggia, o quando il vento spingeva la neve dentro il casolare, e spegneva il fuoco di sommacchi. Ogni mese Mara andava a riscuotere il salario dal padrone, e non le mancavano né le uova nel pollaio, né l'olio nella lucerna, né il vino nel fiasco. Due volte al mese, poi, Ieli andava a trovarla, ed ella lo aspettava sul ballatoio, col fuso in mano. Poi, quando gli aveva legato l'asino nella stalla, e toltogli il basto, e messogli la biada nella greppia, e riposta la legna sotto la tettoia nel cortile, o quel che portava in cucina, Mara la aiutava ad appendere il tabarro al chiodo, e a togliersi le gambiere fradice, davanti al fuoco, e gli versava il vino, mentre la minestra bolliva allegramente, ed ella apparecchiava il desco, cheta cheta e previdente come una brava massaia. Nel tempo stesso che gli parlava di questo e di quello, della chioccia che aveva messo a covare, della tela che era sul telaio, del vitello che allevavano, senza dimenticare una sola delle faccenduole di casa, che Ieli si sentiva di starci come un papa. Bisogna che vada a prendere la legna. Andrò io. No, ti dico. Quando Mara ritornò con la legna nelle braccia, Ieli le disse. Perché hai aperto l'uscio del cortile? Non ce n'era più di legna in cucina? No, sono andata a prenderla sotto la tettoia. Ella si lasciò baciare, fredda fredda, e volse il capo dall'altra parte. Sua moglie lo lascia infradiciare dietro l'uscio, dicevano i vicini, quando in casa c'è il tordo. Ma Ieli non sapeva nulla, che era Becco, né gli altri si curavano di dirglielo, perché a lui non gliene importava niente, e si era collata la donna col danno, dopo che il figlio di Massaroneri l'aveva piantata per aver saputo la storia di don Alfonso. Ieli, invece, ci viveva beato e contento nel vituperio, e si ingrassava come un maiale, che le corna sono magre, ma mantengono la casa grassa. Una volta, infine, il ragazzo della mandra glielo disse in faccia, una volta che vennero alle brutte, per certe pezze di formaggio tosate. Ora che don Alfonso vi ha preso la moglie, vi pare di essere suo cognato, e avete messo supervia che vi pare di essere un re di corona, con quelle corna che avete in testa. Il fattore e il campaio si aspettavano di veder scorrere il sangue allora, ma invece Ieli stette zitto, quasi non fosse fatto suo, con una faccia di grullo che le corna gli stavano bene davvero. Ora si avvicinava la Pasqua, e il fattore mandava tutti gli uomini della fattoria a confessarsi, con la speranza che per il timor di Dio non rubassero più. Ieli andò anche lui, e all'uscir di chiesa cercò del ragazzo con cui erano corse le male parole, e gli buttò le braccia al collo, dicendogli, «Il confessore mi ha detto di perdonarti, ma io non sono in collera con te per quelle chiacchiere, e se tu non toserai più il formaggio, a me, non me ne importa nulla di quello che mi hai detto nella collera». Fu da quel momento che lo chiamarono per soprannome Corna d'Oro, e il soprannome gli rimase, e lui e tutti i suoi, anche dopo che ci si lavò le corna nel sangue. La Mara era andata a confessarsi anche lei, e tornava di chiesa tutta raccolta nella mantellina, con gli occhi bassi che sembrava una Santa Maria Maddalena. Ieli, che l'aspettava a teciturno sul ballatoio, come la vide venire a quel modo che si vedeva come ci avesse il Signore in corpo, la stava a guardare pallido pallido, dai piedi alla testa, quasi la vedesse per la prima volta, o gliela avessero cambiata la sua Mara, e neppure osava alzare gli occhi su di lei, mentre ella sciorinava la tovaglia e metteva in tavola le scodelle, tranquilla e pulita al suo solito. Egli, dopo averci pensato su un poco, le domandò freddo freddo. «È vero che te la intendi con don Alfonso?» Mara gli piantò in faccia i suoi begli occhi limpidi, e si fece il segno della croce. «Perché volete farmi far peccato in questo giorno?» esclamò. «No, non voglio crederci ancora, perché con don Alfonso eravamo sempre insieme quando eravamo ragazzi, e non passava giorno che non venisse a Tebidi, proprio come due fratelli. Poi egli è ricco che i danari li ha appalate, e se volesse delle donne potrebbe maritarsi, né gli mancherebbe la roba o il pane da mangiare». Mara, invece, andavasi riscaldando, e cominciò a strapazzarlo in malo modo, tanto che lui non alzava più il naso dal piatto. Infine, perché quella grazia di Dio che stavano mangiando non andasse in tossico, Mara cambiò discorso, e gli domandò se ci avesse pensato a far zappare quel po' di lino che avevano seminato nel campo delle fave. «Sì», rispose Ieli, «e lino verrà bene». «Se è così», disse Mara, «in questo inverno ti farò due camicie nuove che ti terranno caldo». Insomma, Ieli non lo capiva, quel che vuol dire becco, e non sapeva cosa fosse la gelosia. Ogni cosa nuova stentava ad entrargli in capo, e questa, poi, gli riusciva così grossa, che addirittura faceva una fatica del diavolo ad entrarci. Massime, allorché si vedeva dinnanzi la sua Mara, tanto bella e bianca e pulita, che l'aveva voluto lei stessa, e le voleva tanto bene. Aveva pensato a lei tanto tempo, tanti anni, fin da quando era ragazzo, che il giorno in cui gli avevano detto come ella volesse sposarne un altro, non aveva più avuto cuore di mangiare o di bere tutta la giornata. Ed anche se pensava a don Alfonso, non poteva credere a una birbonata simulia, lui che gli pareva di vederla ancora, con gli occhi buoni e la boccuccia ridente, con cui veniva a portargli i dolci e il pane bianco a tebidi, tanto tempo fa. Una zionaccia così nera, e da che non lo aveva più visto, perché egli era un povero peccoraio, e stava tutto l'anno in campagna, gli era sempre rimasto in cuore a quel modo. Ma la prima volta, che per sua disgrazia rivide don Alfonso già uomo fatto, glieli sentì come una botta allo stomaco. Come se era fatto grande e bello, con quella catena d'oro sul panciotto, e la giacca di velluto, e la barba liscia, che pareva d'oro anch'essa. Niente superbo, poi, tanto che gli battè sulla spalla salutandolo per nome. Era venuto col padrone della fattoria, insieme a una brigata d'amici, a fare una scampagnata, nel tempo che si tosavano le pecore. Ed era venuta pure Mara, all'improvviso, col pretesto che era incinta e aveva voglia di ricotta fresca. Era una bella giornata calda, nei campi biondi, con le siepi in fiore e i lunghi filari verdi delle vigne. Le pecore saltellavano e belavano dal piacere, a sentirsi spogliate da tutta quella lana, e nella cucina le donne facevano un bel fuoco, per cuocere la gran roba che il padrone aveva portato per il desinare. I signori, intanto che aspettavano, si erano messi all'ombra, sotto i carrubi, e facevano suonare i tamburelli e le cornamuse, o ballavano con le donne della fattoria, chi ne aveva voglia. Ieli, mentre andava tosando le pecore, si sentiva rodere dentro di sé, senza sapere perché, come uno spino, un chiodo fitto, una forbice fine che gli lavorasse dentro, minuta a minuta, peggio di un veleno. Il padrone aveva ordinato che si sgozzassero due capretti, e il castrato di un anno e dei polli, e un tacchino. Insomma, voleva fare le cose in grande, senza risparmio, per farsi onore coi suoi amici, e mentre tutte quelle beste scavanzavano dal dolore, e i capretti strillavano sotto il coltello, Ieli si sentiva tremare le ginocchia, e di tratto in tratto gli pareva che la lana che andava tosando, e l'erba in cui le pecore saltellavano, avvampassero di sangue. — Non andare, disse egli a Mara, come don Alfonso la chiamava perché venisse a ballare con gli altri. — Non andare, Mara. — Perché? — Perché non voglio che tu vada. — Non andare. — Lo senti che mi chiamano? Egli non disse altro. Fattosi brutto, come la Mala Nuova, mentre stava curvo sulle pecore che tosava. Mara si strinse nelle spalle, e se ne andò a ballare. Ella era rossa ed allegra, con gli occhi neri che sembravano due stelle, e rideva che le si vedevano i denti bianchi, e tutto l'oro che aveva indosso le sbatteva e le scintillava sulle guance, e sul petto, che pareva la Madonna tale e quale. Iele un tratto si rizzò sulla vita, con la lunga forbice in pugno, così bianco in viso, così bianco come era una volta suo padre il vaccaio, quando tremava dalla febbre accanto al fuoco, nel casolare. Guardò Don Alfonso, con la bella barba ricciuta, e la giacchetta di velluto e la catenella d'oro sul panciotto, che prendeva Mara per la mano e la invitava a ballare. Lo vide che allungava il braccio, quasi per stringersela al petto, e lei che lo lasciava fare. Allora, signore, perdonategli, non ci vide più, e gli tagliò la gola di un sol colpo, proprio come un capretto. Più tardi, mentre lo conducevano dinanzi al giudice, legato, disfatto, senza che avesse osato opporre la minima resistenza, come, diceva, non dovevo ucciderlo nemmeno, se mi aveva preso la Mara. Fine di Ieli, il pastore Fine di Ieli, il pastore